pace e bene a tutti siamo nella seconda domenica del tempo di pasqua vi do il benvenuto un abbraccio gioioso cristo è risorto è veramente risorto alleluia oggi domenica della divina misericordia voluta da gesù stesso apparso a santa faustina chiedendo che in questa domenica si facesse memoria si riscoprisse la sua misericordia si venerasse l'immagine che ci mostra questi raggi benefici simbolo dei sacramenti che escono dal suo cuore e meditiamo in particolare su un brano del vangelo dove abbiamo due manifestazioni del signore risorto entrambe avvenute di domenica due di domeniche consecutive la prima dove gesù invia a perdonare dai peccati la seconda dove si rivela l'incredulo tommaso entriamo nel testo abbiamo i discepoli che sono rintanati per la paura dei giudei quindi sono rinchiusi nel cenacolo il luogo dove gesù ha istituito l'eucaristia luogo di comunione fraterna è ora luogo di paura di disgregazione quando si è prigionieri delle paure penso che un po tutti ne abbiamo fatta esperienza diventa davvero difficile la comunicazione la comunione con gli altri eppure maria di magdala ha annunziato il sepolcro vuoto eppure pietro e giovanni già sono andati giovanni vide e credette ma ancora la paura regna sovrana e le morte sono sprangate ma proprio lì si manifesta il signore risorto e dice pace a voi e mostra le mani e il fianco i discepoli gioirono al vederlo si manifesta risorto come fonte sorgente della pace e si fa riconoscere dai segni della passione questo ovviamente fa sì che i discepoli capiscano che proprio lui è il crocifisso risorto ma più profondamente vedete gesù mostra loro quelle piaghe quelle ferite che ora per dirla con tonino bello sono feritoie di luce sono i segni dell'amore di cristo per loro per noi i segni dell'amore infinito che dio ha impressi nella sua carne per noi il signore dopo il saluto che ripete insuffla lo spirito santo sui discepoli qui abbiamo la pentecoste giovannea c'è questo soffiare lo spirito che nell'antico testamento ritorna due volte quando dio insuffla in adamo lo spirito l'alito di vita e poi nezichiele 37 dove il profeta soffia sulle osse inaridite lo spirito le fa rivivere dunque il signore soffia la sua vita lo spirito santo la vita eterna la vita di dio nel loro cuore e li invia a fare che cosa a proseguire la sua missione e conciliare l'umanità con dio invia la chiesa i suoi discepoli ciascuno di noi a diffondere il perdono a chi perdonerete i peccati saranno perdonati a chi non li perdonerete resteranno non perdonati ecco oltre a un senso largo di diffusione del perdono e di invito a diffonderlo questo versetto è stato interpretato dalla chiesa sin dai padri con una particolare applicazione soprattutto con il battesimo e poi con la remissione successiva dei peccati che ha preso la forma della confessione sacramentale il signore manda la sua chiesa e specialmente il mandato ai suoi ministri a far sì che passi il perdono di dio vedete dio già ci ha perdonati in cristo ma una persona fa suo questo perdono nel momento in cui si pente e potremmo dire lo chiede e questa esperienza del perdono di dio che capace di risanare profondamente l'anima che capace di liberare il cuore dalla schiavitù del peccato di riconciliarlo con dio accade nel momento proprio della confessione dell'assoluzione dei propri peccati è un'esperienza come diceva il santo curato d'ars che realmente guarisce l'anima ma perché potremmo chiederci il signore dice a coloro a cui non li perdonerete resteranno non perdonati forse c'è qualche peccato che non merita perdono o che è troppo grande per ricevere perdono assolutamente no ma volte le persone stesse non vogliono ricevere il perdono purtroppo non si pentono del male che hanno fatto e quindi diventa impossibile dare il perdono perché una persona non lo vuole accogliere se uno non ha il pentimento il desiderio ovviamente di di cercare di cambiare ovviamente non si mette nella condizione di ricevere il perdono qui non c'è un limite al perdono come a dire che ci sono dei peccati troppo grandi semmai c'è un limite che noi poniamo all'esperienza del perdono di dio che è infinito che è senza misura ma è chiaro che se una persona non lo vuole accogliere e si chiude dio rispetta anche la sua scelta quindi abbiamo l'esperienza del risorto e della comunità che viene inviata i discepoli annunziano a tommaso che non era lì presente l'esperienza del risorto ma tommaso non vuole credere lui dice se io non metto il mio dito nelle ferite e non metto la mia mano nel costato io non crederò possiamo vedere da una parte l'incredulità ma anche dall'altra l'ostinazione d'altronde Tommaso era uno dei dodici anche lui era stato sempre con loro e il fatto che non fosse lì rinchiuso con gli altri nelle sue paure da una parte ci dice che stava facendo a mo' di battitore libero che aveva scelto di non stare con la comunità ma forse anche perché era un uomo coraggioso vi ricordate nel Vangelo secondo Giovanni a un certo punto quando Gesù parla della passione Tommaso dice andiamo a morire con lui amava il Signore sicuramente ancora non aveva compreso davvero chi fosse Gesù e quindi lo cercava da sé lo cercava altrove insomma era un uomo che non era tutto dubbio e basta era un uomo innamorato e forse anche disperato e nei suoi dubbi c'è comunque un'apertura perché dice se io non metto la mia mano non crederò ma come a dire se però metterò la mia mano crederò è disposto a lasciarsi anche in un certo senso mentire dai fatti ma è un uomo che si ostina non vuole accogliere la testimonianza degli altri che lo hanno incontrato risorto ma è molto interessante otto giorni dopo dunque la domenica successiva Tommaso è con loro come a dire che Tommaso la domenica dopo sta con la comunità c'è qui un'allusione profonda anche all'eucaristia cioè si mette nella condizione di incontrare il risorto insieme alla comunità e infatti proprio lì si manifesta il signore risorto vedete nella sua esperienza c'è la nostra esperienza del risorto di oggi e i suoi dubbi come diceva san Gregorio Magno ci fanno tanto bene perché attingendo all'esperienza di Tommaso anche noi facciamo esperienza del risorto e veniamo rinvigoriti nella fede Gesù si manifesta lì e poi invita Tommaso lo invita a mettere le sue dita nei segni dei chiodi nella ferita del costato i verbi sono all'imperativo presente indicano una continuità come a dire Tommaso continua a mettere qui le tue dita continua a mettere la tua mano nel costato e non continuare a essere incredulo ma credente Tommaso a quel punto crolla chissà forse capisce in quel momento di aver perso un'occasione meravigliosa di credere ma vedete in quel momento è bellissima la tenerezza del signore che lo difende da sé dalla sua rabbia dei suoi dubbi dal suo dolore gli va incontro e con tenerezza infinita gli ripete le stesse identiche parole che Tommaso aveva detto giorni prima come a fargli capire che la sua invisibilità non è assenza ma è un diverso tipo di presenza lo invita a metterli le sue mani continua a metterle qui e Tommaso il Vangelo non ci dice che pose lì le sue mani di certo non lo mise come ritrae il Caravaggio con ostinata incredulità sicuramente ecco Tommaso professò la sua fede nel modo più bello e limpido di tutto il Nuovo Testamento mio Signore e mio Dio ed ecco infine la beatitudine che Gesù riserva Tommaso tu hai creduto perché hai veduto ma beati coloro che pur non vedendo crederanno e siamo tutti noi siamo tutti noi che attingendo all'esperienza dei testimoni oculari di coloro che ci hanno annunziato la fede siamo noi che facendo esperienza del risorto nella comunità e specie nell'eucaristia crediamo pur senza vedere certi della sua presenza capace di dare libertà dignità e amore profondo ai nostri cuori pace e bene